Da oltre un anno il partito comunista italiano marxista-leninista guidato dal segretario generale Domenico Savi attraverso eloquenti video denunce, dirette streaming su Facebook e un dettagliato esposto presentato alle maggiori autorità dello Stato denuncia la presenza nel centro storico del comune di Ischia di pinni completamente secchi, malati o moribondi come quelli piantati da decenni lungo il vialetto della pineta degli atleti vergognosamente abbandonata tra erbacce e sporcizie varie e dove l'impianto della pubblica illuminazione risulta distrutto dall'incuria di chi negli anni avrebbe dovuto garantire un minimo di manutenzione ordinaria qui, in pieno centro abitato e lungo via Leonardo Mazzella strada frequentatissima da automobilisti e pedoni e soprattutto da alunni, studenti e ragazzi per la presenza dell'istituto alberghiero, dell'asilo, della scuola elementare, della palestra Sogliuzzo e del palazzetto dello sport Federica Tagliaratela i pinni secchi o moribondi presenti in pineta e sul marciapiede, anche per la loro inclinazione, danno l'impressione di poter crollare all'improvviso sulla sede stradale ma nessuno sembra fregarsene e così gli attuali amministratori comunali che con l'ex primo cittadino Giosi Ferrandino non hanno provveduto a curare i pinni schitani attaccati nel tempo da parassiti vari oggi con Enzo Ferrandino sindaco, quello che in campagna elettorale aveva promesso una bella ischia, non hanno ancora provveduto a farli rimuovere assurdo, e intanto il bilancio dei crolli in pineta si aggrava e nei giorni scorsi altri possenti tronchi si sono spezzati e siamo proprio all'interno della pineta degli atleti, sul viale che costeggia via Leonardo Mazzella sulla mia sinistra potete notare i tronchi di pino che si sono spezzati e sono crollati al suolo Gli scheletri dei tronchi spezzatisi dal forte vento dei giorni scorsi e che annunciano nuovi possibili crolli dovrebbero far saltare dalla sedia chi ha il dovere di rimuovere i pericoli che si corrono nella pineta degli atleti e invece tutti tacciono sindaco, vice sindaco, assessori e consiglieri comunali non si pronunciano quasi fosse tutto normale, ma stiamo scherzando eppure dopo i nostri ultimi video denunce eravamo stati messi al corrente che l'intervento sarebbe stato imminente ma sino a questo momento non è stato fatto ancora nulla probabilmente non ci si è resi conto che c'è bisogno di un intervento dembestivo e noi ci vogliamo augurare che le immagini girate oggi pomeriggio servano finalmente a far rimuovere i pini secchi la cosa incredibile è che questo tratto di pineta divenuto pericolosissimo per la pubblica incolumità a causa della presenza di pini secchi a rischio crollo non sia stato neppure delimitato da transenne correlate dalla relativa cartellonistica di pericolo e ognuno può introdursi al suo interno naturalmente, se malauguratamente nel frattempo dovesse succedere qualcosa dopo la nostra ulteriore dettagliata denuncia giornalistica certamente nessuno potrà dire ma io non sapevo è veramente ora di dire basta ai pericoli che incombono per la pubblica incolumità nella pineta degli atleti e su via Leonardo Mazzella sindaco Enzo Ferrandino fate presto prima che sia troppo tardi a far rimuovere i pini secchi ad alto rischio crollo che a decine sono presenti in questa pineta grazie a tutti